Il vostro veterano del fantacalcio, video dedicato esclusivamente al mondo del fantacalcio quindi massima attenzione, video per quest'anno ma soprattutto per il prossimo anno un po' di pianificazione e strategia per il prossimo anno quindi non ci facciamo mancare niente in questo periodo video di Champions, video di fantacalcio, live su fantacalcio, video su Europei veramente un periodo caldissimo sarà un'estate bollente anche con il calciomercato e con la pianificazione strategica per il prossimo anno ci portiamo un po' avanti e oggi vi faccio un video sui regolaristi, sui semi top quelli che sono a mio avviso fondamentali per vincere al fantacalcio sapete che i fautori dei bomber non sempre hanno ragione anche perché viene dilapidato un patrimonio importante a livello di budget i giocatori che vengono presi low cost, basso costo, regolaristi, semi top che a fine anno possono fare molto bene vengono consigliati di troppo poco durante la fase iniziale ma sono fondamentali andiamo ad esaminare in questo concetto 4 reparti difesa, portieri, centrocampisti, attaccanti, 3 per ruolo per mostrarvi un po' quella che è la mia teoria dove di fatto con giocatori a poco prezzo potevate fare un'ottima squadra e portarvi a casa dei veramente regolaristi semi top che sono diventati poi dei quasi top di reparto partiamo dalla porta anche qua, come dire, è un ruolo troppo spesso sottovalutato ma Catervi di gol, Barcat di gol, Presi di Malus evidenziano comunque una difficoltà a recuperare la giornata vedi Paolo Lopez, vedi anche lo stesso Arena in certe giornate è andato male questi tre portieri che vado ad esaminarvi sono Audero, Silvestri e Perini hanno fatto, mi avviso, un ottimo campionato in fase d'asta potevano essere presi a basso prezzo partiamo ad esaminare Audero restiamo portieri della Sampdoria attuare quest'anno di una annata veramente importante la sua fanta media è 5-0-6 47 gol subiti finora una media voto secca pari a 6-36 complice anche un rigore parato un assist di quest'anno e 0 ammunizione quindi complimenti al restiamo portieri della Sampdoria per lui una fanta media importante quindi oltre il 5 va quasi di fatto a un ruolo di top di reparto sicuramente nella vostra lega è stato pagato pochissimo soprattutto se in leghe poco numerose forse è andato anche svincolato mentre in leghe numerose sicuramente è andato via è stato acquistato ma non ha un prezzo esagerato secondo portiere che vi vado a delencare si parla di Silvestri l'estremo portiere del Verona che durante la fase dell'andata era praticamente un top poi ha avuto un normale decadimento complice anche ad autogol che fece a Udine con il Verona anche perché poi il Verona di fatto è stato salvo da diverse giornate quindi anche un po' di calo psicologico per la squadra di Juric comunque la sua fanta media è pari a 4,91 41 gol subiti media voto pari a 6,23 una sola ammunizione quindi giocatori estremamente corretti come Aldero e non vanno a incidere a livello negativo nella fanta media complessiva quindi si veste un ottimo portiere si conferma ancora per il secondo anno di fila un ottimo portiere in molte leghe è stato pagato veramente poco ad esempio nella mia lega è stato pagato un 4-5% quindi veramente ottimo come investimento per l'anno in corso e lega 12 anche lega 10 può essere preso come portiere di punta chiudiamo con Perin da quando è arrivato Ballardini ha migliorato ancora di più le sue prestazioni le sue performance fanta media pari a 4,90 38 gol subiti media voto pari a 6,26 una ammunizione e un'espulsione che ha un po' peggiorato la sua fanta media ma anche qua ottimo portiere da quando è arrivato poi il Ballardini ha sicuramente ha migliorato di molto le performance quindi complimenti all'esterno portiere del Genoa anche lui una sicurezza per quanto riguarda i fantanatori e anche lui in fase d'asta sicuramente è andato via a un prezzo veramente veramente di saldo quindi una triade di questo tipo di portieri quindi Audiero, Silvestri e Perin probabilmente sarebbe andata via a pochissimo costo il lega 6 e il lega 8 addirittura forse svincolati alcuni di loro il lega 10 è sicuramente fattibile così come il lega 12 magari preventivando un 10% di budget vi costruivate una triade di portieri veramente importante passiamo a parlare dei difensori in questo caso vi ho messo Romero in ultimi che bastoni nominativi che iniziano come detto non sarebbero stati di grido sicuramente ma ad un'attenta analysis possono essere equiparati quasi a dei semi top arti andiamo a vederli in dettaglio Romero, Atalanta, Fantamida 6,48 2 gol media voto secca 6,37 2 assist 26 presenze l'unica pecca che permane, persiste sono le 10 ammunizioni su questo tema deve migliorare molto di fatto una ammunizione in due partite Omarus che è il giocatore numero 17 dell'Atalanta deve sicuramente migliorare però anche qui sicuramente un giocatore importante è andato via a prezzo di saldo durante le aste Nuitnik dell'Udinese è un colosso uno dei miei preferiti 6,38 di Fantamedia un gol media voto 6,24 una sola ammunizione peccato per le 18 presenze complice anche l'infortunio si è sentito parecchio alla sua assenza nell'Udinese quando era assente quindi il colosso dell'Udinese è veramente un colosso anche per il Fantacaccio investitice anche per il prossimo anno Bastoni Simone dell'Ospezia una bella sorpresa Fantamedia 6,29 un gol media voto secca del 6 pulito 6,00 7 assist scusate 7 ammunizioni 3 assist e 20 presenze quindi un ottimo investimento anche in leghe numerose l'esterno dell'Ospezia è andato via svincolato quindi iniziano non ce l'aveva praticamente nessuno però si è dimostrato una bellissima realtà anche in questo caso questi tre giocatori presi praticamente a prezzo di saldo diciamo quasi a uno ciascuno potevano fare veramente un ottimo investimento vi permettevano più che altro poi di prendere come investimento magari dei top quindi ad esempio su otto giocatori prendere questi tre come quinto, sesto e settimo slot ad esempio vi poteva permettere di avere basso costo per questi giocatori ma permettervi di dare budget importanti a dei top di reparto tipo Akhimi tipo Gosens e avere la cautela di avere comunque giocatori regolaristi che fanno quando chiamati in causa fanno una buona prestazione e ogni tanto condiscono anche con qualche assist con qualche gol secondo me questo è il giusto mix per condividere la strategia dell'asta passiamo a parlare dei centrocampisti scusate partito all'immagine adesso la recupero parliamo dei centrocampisti qua cominciano i nomi forti di grido di fatto ma che comunque inizio anno erano considerati a metà a metà classifica diciamo nelle preferenze dei fanta allenatori chiamiamoli regolaristi chiamiamoli semi top ci sono Soriano ci sono Maggi Maggiore e c'è Lanzovic parliamo dal bomber del Bologna di fatto perché Soriano è un bomber quasi in doppia cifra fanta media 7.09 9 gol fatti media voto 6.21 4 assist 4 munizioni e 33 presenze quindi ottima regolarità le ha fatte praticamente quasi tutte Soriano solo 4 munizioni arriva alla doppia cifra per un centrocampista è sempre importantissimo anche qua Soriano pagato sicuramente non come i top ma come dei semi top e quindi Soriano fondamentale è fondamentale per Miarovic fondamentale per i fanta allenatori chi ha puntato su di lui sicuramente sta gongolando in questo momento e sicuramente può godersi a pieno questo fantastico giocatore parliamo di Lanzovic fanta media 6.56 3 gol media voto 6.12 4 assist 3 munizioni e 27 presenze anche lui Darko Lazovic veramente importante per il Verona anche lui un po' come Silvestri poi si è spento dopo la salvezza tranquilla di questo Verona però anche lui può essere un ottimo innesto come terzo quarto slot in leghe anche numerose diciamo così ma anche in leghe non numerose e può liberare un po' di budget per i ruoli più alti di top a centrocampo parliamo di maggiore fanta media 6.46 3 gol media voto 6.13 1 assist 2 munizioni 28 presenze anche in leghe molto numerose notizia quasi svincolato io sinceramente nella mia lega l'ho preso a 1 quindi Giulio Maggiore è veramente importante nel giro dell'Under 21 e può essere un centrocampista dal sicuro futuro per il calcio italiano anche qua il stesso discorso è un po' fatto per i difensori prendervi questi tre centrocampisti come diciamo così terzo quarto e quinto slot vi permetteva di avere la sicurezza di avere i giocatori importanti ma la sicurezza anche di prendervi 1-2 top a centrocampo e avere le giuste gerarchie a centrocampo ecco questo è un po' il consiglio che voglio darvi per quanto riguarda i centrocampisti come negli altri ruoli anche per i centrocampisti è giusto avere delle gerarchie quindi se è Soriano il vostro terzo di centrocampo un quarto può essere sicuramente un Lazovic un quinto maggiore e magari potevate permettervi un primo come Luis Alberto o Mkhitaryan e poi altri tipi di giocatori importanti che potevano sicuramente fare a caso vostro questi potevano essere i consigli che potevo darvi in questo senso parliamo infine degli attaccanti per quanto riguarda gli attaccanti abbiamo Berardi Insigni e Simi anche qua diciamo così giocatori dalla seconda terza fascia in giù non sicuramente i giocatori di primo livello soprattutto Simi forse era anche la quarta fascia diciamo gli attaccanti sono Berardi Fanta Media 8.42 14 gol veramente impressionante Mimo Berardi quest'anno media voto 6.62 5 assist 5 rigori segnati su 5 tirati 4 munizioni quindi ha migliorato molto anche la sua parte un po' sul suo talone d'Achille e 25 presenze su questo si può chiaramente migliorare intanto è fragile salta qualche appuntamento però 25 presenze non sono sicuramente male Lorenzo Insegna Fanta Media 8.35 17 gol si avvicina verso i 20 gol complimenti al bomber del Napoli media voto 6.55 5 assist 7 rigori segnati su 7 2 sole munizioni 1 espulsione e 30 presenze per Lorenzo il Magnifico in signe chiudiamo con Simi media voto Fanta Media voto 7.98 19 gol anche lui si avvicina verso i 20 gol complimenti al nigeriano media voto 6.19 1 assist 8 rigori segnati su 8 1 sola munizione e 33 presenze i 3 casi in oggetto sono 3 rigoristi non hanno offerto neanche un rigore quindi complimenti a loro per la precisione sicuramente inizio anno venivano dalla seconda terza fascia in avanti come detto avevano una bassa incidenza sul budget e può essere un ottimo pro memoria per il prossimo anno perché in questo caso giocatori di questo tipo mi permettevano di avere magari un top di reparto e poi importanti semi top come gerarchie quindi in questo caso un berardi un insignia e un semi potevano essere tranquillamente un secondo terza e quarta fascia con anche il permesso di avere un lukaku o ronaldo come prima fascia e sicuramente avreste avuto un attacco veramente stellare che vi poteva permettere di costruire un budget importante anche negli altri reparti quindi il consiglio che volevo darvi sta proprio in questi termini come mori nel fantacalcio anche tramite le opportunità gli affari che si rilevano durante durante l'asta sicuramente i semi veniva da 20 gol in serie B nessuno si aspettava di avere lo stesso numero di gol anche in serie A però sicuramente il nigeriano ha dimostrato di saperci fare molto molto bene ve l'arri una conferma perché l'anno scorso fece la doppia doppia quindi doppia cifra di assist e doppia cifra di gol in signe era abbastanza inaspettato ma sicuramente tutti e tre i giocatori avevano una bassa incidenza di budget rispetto al costo degli altri giocatori di reparto vedete ad esempio i giocatori che hanno deluso tipo Caputo o tipo Belotti questi sono i consigli che volevo darvi per quanto riguarda la pianificazione del prossimo anno spero che sia stato un video utile ricordatevi alcune note e tecniche l'iscrizione al canale youtube fatemi un po' di passaparola per arrivare velocemente a quota 4.000 sono attivi gli abbonamenti qui sotto trovate tutte le indicazioni per sopportare il veterano anche da punto di vista economico quindi grazie di cuore e grazie di cuore ai amici di Magic Girl che mi supportano costantemente con le loro grafiche e con il loro supporto un abbraccio a tutti buon campionato a tutti buon fantacarcio a tutti qualsiasi necessità sono a disposizione ciao ragazzi